Sono molto preoccupato sulle condizioni del mio cane. Sono queste le parole di Giovanni Palazzi, proprietario di Alfa, un pastore italiano maschio di sei anni, recentemente scomparso dalla sua abitazione. Ad estare le prime preoccupazioni è stato il ritrovamento del cancello di casa aperto, in quanto la sera precedente alla scomparsa il proprietario aveva chiuso i due battenti tramite un lucchetto. Il pastore italiano, di razza antica caratteristico per il suo manto nero e bianco, rappresenta una razza canina rara e da come ci riferisce il proprietario non iscritta all'ENCI, ovvero l'ente nazionale della cinofilia italiana. Il proprietario, dopo aver cercato istintivamente il cane per ore e a seguito della pubblicazione delle foto sui social network con esito negativo, ha deciso di denunciare lo smarrimento attraverso un appello televisivo. Chiedo a chiunque possa in qualche modo vedere il cane, poi passeranno anche delle foto, ci può contattare il numero fisso di casa, probabilmente risponderà mia madre se non ci siamo noi in casa, che è lo 0721803488. Appurato che non si sia allontanato da solo, di sua volontà, sia stato rubato. Non voglio usare la parola rapito per non abusare, ma sicuramente trafugato da qualcuno che ben conosce la razza, trattandosi di un pastore italiano, fra l'altro con un mantello molto particolare, perché di solito i soggetti di questa razza sono tutti neri, mentre lui è bianco e nero a chiazze. È un cane che non si sarebbe per l'addestramento ricevuto avvicinato a nessuno, né avrebbe accettato cibo tipo polpetta velenate perché è stato addestrato al rifiuto del cibo. Mangia anche a comando, per cui gli diamo da mangiare io e mia madre e prima che lui comincia a mangiare aspetta che noi gli diciamo mangia, altrimenti non mangia. Il proprietario inoltre, sconcertato per quanto accaduto e preoccupato anche per il nutrimento dell'animale, in quanto rifiuta il cibo da parte di estrani, esprime alcune considerazioni sull'eventuale rapimento. Se è stato trafugato per fini illeciti, per essere rivenduto sul mercato nero, per lotte fracani, clandestine, eccetera, questo non posso saperlo con certezza. Però il sospetto è molto forte anche perché sono appena tornato dall'ufficio veterinario in cui mi hanno confermato che questi furti sono, non dico all'ordine del giorno, ma tantissimi. Io ripeto, se qualcuno possa aiutarci nelle ricerche, nel ritrovamento di Alfa, non possiamo essere che contenti e grati. Non possiamo offrire purtroppo ricompense in denaro se non simboliche perché non abbiamo capacità finanziarie tali. Ad ogni modo ringrazio tutti di cuore per l'interessamento.